Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ARA e benvenuti in questa nuova recensione innanzitutto volevo ringraziarvi tutti per gli enormi ordini che avete fatto sfruttando lo sconto grazie veramente di cuore ma non perdi altro tempo oggi abbiamo tra noi il Power Ranger Blue per la linea Lightning Collection Remastered naturalmente prodotta da Hasbro Mighty Morphin Power Rangers per il trentesimo anniversario questa è la confezione molto figa anche compatta e elegante eccola qui ma direi di non perdere altro tempo se volete acquistare questo trentesimo film lo potete trovare sul mio sito Arash Shop nel link qui sotto in descrizione andiamo a vedere il nostro Power Ranger fuori dalla confezione oh ed eccoci qua con tutti i suoi accessori come vedete sono veramente tanti andiamo subito a vederli il solito zoomino ecco qua mani intercambiabili queste qua in questa posa molto particolare figa questa qui invece ha palmo spalancato abbiamo queste due invece chiuse a pugno immancabili poi abbiamo minuscolo eccolo qui l'accessorio per trasformarsi mi sfugge il nome se ve lo ricordate lasciatelo qui sotto in un commento con il simbolo del triceratopo veramente figo poi abbiamo una testa intercambiabile a volto scoperto eccolo qui di Billy dovrebbe essere questo il nome appunto del ragazzo che interpreta il Power Ranger Blue dell'identità segreta in realtà molto figo belle le sfumature sui capelli gli occhiali sono anche rimovibili volendo figata proviamo l'arma caratteristica del Power Ranger Blue questo tridente blu eccolo qui spezzato in due molto penalizzato con qui il simbolo dorato e anche attaccato in un'unica lancia eccola qui fighissimo dovete sapere che da piccolino il Power Ranger Blue era il mio preferito in assoluto anche sopra al rosso e al verde poi abbiamo le varie modalità della pistola vedete abbiamo il cannone piccolo la pistola e la spada eccole qua diciamo che non manca nulla perché ci sono anche gli effetti energetici ragazzi eccoli qui quelli blu spettacolo ogni Power Ranger di questa linea è dotato di questo effetto energetico naturalmente del suo colore questa è una figata ora vediamo il nostro Ranger più nel dettaglio ecco il casco fatto molto bene ragazzi con tutti i dettaglini stampati alla perfezione lucido poi abbiamo la tuta tuta blu con le parti bianche questa volta stampate molto bene da parte di Hasbro non si vede il colore attraverso è un bianco molto molto vivo ben realizzato così come anche il resto delle stampe vedete qui ci sono quelle blu la cintura con il simbolo anche questo ben realizzato il fodero chiaramente dove si può inserire la pistola fatto molto bene tutto molto bene anche le suole scolpite in questo modo qui quindi non manca assolutamente nulla su questo Power Ranger da notare anche i peg coperti zoom all'indietro articolazioni testa può guardare molto bene verso l'alto può guardare anche verso il basso movimento laterale rotazione laterale butterfly joint ottima apertura del braccio anche questa ottima rotazione rotazione qui alla spalla poi abbiamo il piegamento doppio al gomito rotazione qui al polso e piegamento allo stesso poi piegamento qui al busto tramite sfere anche movimento laterale ottimo in più c'è anche la cerniera quindi un ottimo piegamento complessivo del busto ragazzi veramente eccezionale gamba in avanti gamba all'indietro un po' limitata allo scaldo però vedete c'è addirittura la cerniera che si può portare all'ingiù per poterla vedete muovere verso la parte posteriore poi abbiamo l'apertura laterale massima ottima rotazione piegamento doppio al ginocchio rotazione allo stivale piegamento del piede in su piegamento del piede in giù e rotazione laterale della caviglia peccato che non c'è il piegamento alla punta del piede manca solo quello misurazione dell'altezza il nostro ranger è alto praticamente 15 cm spaccati ovvero 6 pollici ecco la confronto dello spider-man serie animata marvel legends custom realizzato da me lo spider-man stage figures il batman mcfarland toys e il mitico monnezza spider-man marvel select ed eccolo qua ragazzi sulla basetta rotante veramente un'ottima figura io non li avevo mai visti questi qui non li avevo mai aperti per paura di doverli aggiungere alla mia collezione ed è proprio così che farò perché sono i power rangers perfetti praticamente non li scoperti un sacco di accessori come estetica ci siamo veramente articolazioni top ragazzi diamo i voti accessori do un bel 9 c'è tutto veramente manca solo una basetta ma c'è anche l'effetto ragazzi pazzesco articolazioni do l'8 e mezzo se non il 9 anche sono delle ottime articolazioni estetica ragazzi anche questa è fatta veramente bene classico power ranger perfetto in ogni dettaglio ragazzi do l'8 e mezzo ragazzi questo è un power ranger da 9 9 pieno assolutamente non c'è altro da aggiungere sono le figure perfette appunto dei power ranger basta e sono difficili da trovare ragazzi è un miracolo che siano ancora disponibili sul mio shop perché ho fatto molta fatica per averle nello shop e ogni volta che esce il nuovo ranger è sempre un bel casino per poterlo avere perché appunto sono veramente erai da trovare comunque ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questa collezione con un commento qui sotto e l'acqua al video sempre diretissimo così come anche la condivisione vi ringrazio sempre per la visione ciao Dara dal Blue Rangers e collezionate sempre